il traduttore istantaneo mg consente di tradurre 53 lingue sia con audio e testo quindi di farsi capire in qualsiasi angolo del pianeta il funzionamento è molto semplice si accende l'apparecchio con il tasto di accensione sulla destra apparirà la schermata iniziale al termine della quale se il primo utilizzo bisognerà cambiare la lingua del display scorrere con il dito il tast screen fino all'ultima finestra quella delle impostazioni poi premere questo tasto e selezionare la lingua in questo caso inglese nella schermata delle impostazioni c'è anche la regolazione del volume della luminosità dello schermo il tasto per cercare gli aggiornamenti e il tasto con varie informazioni come numero seriale modello dell'apparecchio bisogna ora connettersi alla rete wifi o bluetooth cliccando sul tasto corrispondente selezionare la rete e scrivere la password adesso fa scorrere il tast screen fino al tasto di selezione delle lingue si può scegliere tra più di 50 lingue in questo caso ad esempio selezioniamo italiano e spagnolo sul fianco dell'apparecchio ci sono due tasti arancione e azzurro che corrispondono alle due lingue se premo e tengo premuto il tasto arancione e parlo italiano ciao come va quando rilascio il tasto arancione il traduttore tradurrà quello che ho detto in lingua spagnola hola como estas scrivendo anche la traduzione sul display se invece premo il tasto azzurro e parlo spagnolo hola como estas l'apparecchio tradurrà quello che ho detto in italiano ciao come stai l'apparecchio si ricarica tramite un cavo usb che viene dato in dotazione